Noi ci siamo evoluti per 2,4 milioni di anni con carne, pesce, frutta, verdura e frutta secca e quello che dovremmo mangiare escludendo cereali, legumi, razzicini perché non l'abbiamo mai visti. Ma è vera questa storia quindi che le uova tutti dovrebbero mangiarle? Sì e no, ve lo dico subito, dipende anche se la parola dipende a me non piace molto ma questa sera purtroppo Grono è costretto a utilizzarla. Non esistono, ripetiamo insieme, non esistono prove conclusive sul ruolovo delle uova nel rischio cardiovascolare. Grazie a tutti.